Sono le 12.52 del 20 novembre 2023. Bene, sono sceso da questo lungo tratto di palesia a ovest del comune di Ortuccio. Ho costeggiato la bassa della palesia. Grotte ce ne sono, ma là ci vogliono i scalatori alpinisti per salire sopra. Io di certo non ci vado. Comunque è stata una bella escursione, una magnifica passeggiata. Questa strada sotto a circa 2 km si riconciunge con la strada di sicconficenze. E tra 1500 metri questa medesima strada asfaltata che si trova ai piedi qui della palesia si riconciunge al bifo del cimitero del comune di Ortuccio. Anzi, vediamo un po'. Lo metto qua sopra e vi faccio vedere se si salgo un po'. Ecco qui. Ed ecco Ortuccio, vedete. Da 1500 metri. Guardate quanto è bello Ortuccio, eh. Adesso ci ripasso con la mia bici e attraversiamo questo magnifico paese. Guardate quanto è bello Ortuccio. Guardate quanto è bello Ortuccio. Guardate quanto è bello Ortuccio.